23,70 contro dollaro. La Banca dei Regolamenti Internazionali, che ricordiamolo ha sede a Basilea, nella sua rassegna trimestrale ha messo in rilievo che i pagamenti digitali sono in crescita in tutta Europa, ma solo in Svezia e in Russia, hanno praticamente sostituito il contante. L'Osservatorio del Politecnico di Milano ha messo in luce che nel 2017 in Italia i pagamenti digitali hanno visto flussi per 220 miliardi di euro, 20 legati al commercio elettronico, poco meno di 7 legati a pagamento con tecnologie mobili come smartphone e ben 18 legati alle carte di credito di nuova concezione, le contactless, quelle senza contatto per i piccoli.